Oggi vi raccontiamo una notizia che ha colpito profondamente una delle figure più amate del panorama musicale italiano e internazionale. Romina Power, nota per la sua carriera straordinaria e per essere stata la moglie di Albano, ha condiviso un messaggio di addio commovente. Ma chi ha perso Romina? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questo triste evento. Romina Power ha annunciato un lutto che l'ha colpita nel profondo. Il suo messaggio di addio su Instagram è stato un omaggio toccante a una persona cara che ha lasciato un vuoto incolmabile. Di chi si tratta? Restate con noi per scoprirlo. Prima di entrare nei dettagli di questa storia toccante, vi invitiamo a iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e curiosità dal mondo dello spettacolo. Romina Power, una figura carismatica e dolce, ha sempre condiviso con i suoi fan non solo la sua carriera, ma anche frammenti della sua vita privata. Attraverso Instagram, ha spesso offerto un'anteprima del suo quotidiano, dei suoi ricordi e dei suoi pensieri. Ai fan la seguono con affetto e commentano i suoi post, apprezzando la possibilità di conoscere il lato più personale della loro beniamina. Purtroppo, qualche ora fa, Romina ha condiviso una notizia dolorosa. Con un post su Instagram, la cantante ha dedicato un dolce messaggio di addio a una sua cara amica, che è recentemente scomparsa. Romina ha ricordato l'amica con grande affetto, ripensando ai momenti speciali trascorsi insieme. Ha scritto che da lei aveva trascorso alcuni mesi e condiviso serate magnifiche e magici happening tramite lei. Ho fatto amicizie che tuttora conservo. Romina ha anche espresso il suo cordoglio ai figli e al marito dell'amica scomparsa. Nei commenti del post, ha continuato a parlare della sua amica, esaltandone le qualità. È raro trovare sia la bellezza che l'intelligenza e la simpatia in una sola persona, ha detto, sottolineando come l'amica le avesse tutte e tre. La perdita di una persona cara è un dolore che non si può descrivere a parole. Cosa ne pensate del messaggio di Romina Power? Avete mai vissuto una perdita simile? Lasciateci i vostri commenti e condividete le vostre esperienze con noi. Il messaggio di Romina ha toccato profondamente i suoi fan, che si sono uniti a lei nel dolore. La cantante ha sempre mostrato una grande forza di fronte alle avversità, ma la perdita di un'amica così cara ha inevitabilmente lasciato un segno profondo. Romina ha voluto ricordarla non solo per le sue qualità, ma anche per i momenti indimenticabili trascorsi insieme. Il messaggio di addio di Romina Power è un promemoria del valore delle amicizie e del tempo trascorso con le persone che amiamo. Lasciateci un commento per condividere i vostri pensieri e non dimenticate di iscrivervi per altre storie toccanti ed emozionanti. Romina Power ci ha mostrato ancora una volta quanto sia importante celebrare le persone care, anche nei momenti di dolore. Speriamo che trovi conforto nei ricordi e nell'affetto dei suoi fan. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e altre storie dal mondo dello spettacolo.